Perché se non si vede che sono le 3.26 e sono 10 gradi Sì, del 14 giugno Sì, del 14 giugno Sì, del 14 giugno Sì, del 14 giugno Siamo a rifugio Questo si chiama lattella Che è tipo siero di latte con la sambuca Il succo di sambuca Questo è il latte munto stamattina Questa è birra La fanno lì, la fanno qua Insomma, arriviamo qui Sono soltanto le ore 11.50 11.50 e fa 10 minuti noi pranziamo Anche meno se è possibile I nostri piattoni di formaggi Prosciuttone, pane Sole, salame Perfetto Sì, del 14 giugno Ho una casa E sto lavorando Ogni giorno Sento uno stomacino È il mio stomaco Che cosa vuoi che dica Di cosa vuoi che parli È il mutuo Il pensiero peggiore del mondo Che ho intorno TASSO FISSO Con le unriborce Chi sta impazzando Da un anno